ciao a tutti sono giuno dos santos chi mi segue da anni c'è da un anno circa che faccio il video saprà che avevo un contraddittore c'è un contraddittorio che mi rompeva un po' tanto le scatole non avevo voglia di sentire tutti i suoi spiegoni dei sistemi diocenti a terra come gira come non gira ci siamo passati tutti poi ci sono quelli che si fissano e vanno a andare sulla fantascienza ecco io adesso ho visto un video in cui mi ha menzionato e lo sto rispondendo io faccio questo video perché non so se allora io infatti cerco di farvi vedere più o meno come iniziate no poi se andate sul suo canale sto facendo il suo video più che altro perché non vorrei che magari mi cancellasse i miei commenti perché ho commentato minuto per minuto tutte le minchiate che lui ha detto ecco e quindi faccio un video riguardo quello che sto scrivendo a lui non vorrei che magari mi cacciassi ma io l'ho bloccato in passato perché appunto non avevo voglia di rispondere a cosa che io ne so già ok non cerco di insomma di rispondere a ciò che so già io non devo spiegare dovete voi studiare l'altro sistema se volete parlare dell'altro sistema o contro l'altro sistema dovete capirlo appieno se non lo capite appieno non potete contraddire e infatti ho sbloccato nessuno sa proprio oggi perché mi sono rotto le balle di rispondere a gente che non conosce neanche il sistema che stanno difendendo ditemi voi qua se le maree sono create dalla forza centrifuga terrestre fisici qua voi che ci siete per favore ditemi questa cosa dove sei mai scritto da qualcuno che le maree beh lui poi mi ha commentato dicendo è la luna da una parte dall'altra parte è la forza centrifuga cioè mi sono rotto le balle di rispondere a gente incompetente tutto qua e quindi da adesso in poi mi spiace per voi ragazzi che vi piace commentare e trovate i haters no che vi bastonano tenetevi duro state sereni non c'è bisogno che commentate perché i commenti non servono a niente i like e dislike non servono a niente è la verità che rende onore comunque vi consiglio di andare a vedere questo video qua no terra piatta curiosità e storia della mappa sulla terra piatta nessuno sa ha imparato prima ho tirato fuori io la mappa di urbano mo e mo gira la frittata gira la frittata cioè mi viene a dire cioè anzi nel suo video lui dice che noi ci fidiamo sulla sulla mappa di urbano monte barra i perché appunto anche lui l'ha accennato non si capisce se e io e quindi urbano e anche io nel video fatico a dire ma o monte o monti ma il discorso non è questo cioè lì sono delle scansioni di un di un libro però non sono foto montaggi di aerei che circolano e poi creano un globo ok per un momento è tutto anzi ecco andate sul suo canale controllate se lui mi ha cancellato i commenti buona vita a tutti